ciao a tutti ragazzi sono diego se oggi vi spiegherò come spedire il vostro nome a fare un viaggio attorno alla luna bene sì non è fantascienza ma è una iniziativa promossa dalla nasa verso la fine di quest'anno quindi 2022 dovrebbe esserci questa missione artemis 1 dico dovrebbe perché doveva essere fatta nel 2020 rimandata al 2021 e poi il 2022 forse per il fatto del covid eccetera eccetera questa missione ha lo scopo di testare questo vettore questo mezzo che servirà poi in futuro per portare l'equipaggio umano delle persone sulla luna e poi eventualmente forse anche più in là pian piano o comunque per portare nello spazio come funziona prendere questo missione parte fa un orbita intorno più orbite intorno alla luna e torna indietro quindi logicamente essendo che poi ci saranno sopra delle persone dovrà comunque ritornare sulla terra e per promuovere per far conoscere queste queste iniziative queste iniziative la nasa la nasa cosa fa ci permette di scrivere il nostro nome è semplicissimo da fare andate sul sito della nasa trovate comunque il link qua in descrizione questa paginetta infatti qua ci dice fai volare il tuo nome intorno alla luna dice il vostro nome sarà incluso in una flash drive quindi una chiavetta in una memoria che volerà sull'artemis 1 che pigata già se qualcuno di voi aveva visto un mio video vecchio si può fare anche per mandare il nome su marte e io l'avevo fatto qualche anno fa infatti il mio nome già su marte su una piccola memoria che è stata penso posata comunque sul rover o su un veicolo che adesso un qualcosa che adesso su marte allora andiamo qua clicchiamo primo nome nome cognome qua dobbiamo mettere un numero di 47 cifre ci serve anche più avanti per poter andare a ripescare il biglietto se lo vogliamo submit cliccate qua ed ecco qua il biglietto il boarding pass per l'artemis 1 è una bella iniziativa se qualcuno di voi lo fa mi raccomando scrivetelo qua in commento ciao a tutti ragazzi e al prossimo video per questo video è tutto ragazzi iscrivetevi al canale e buon divertimento ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.